amici ma soprattutto nemici bianconieri buongiorno ragazzi buongiorno se la se la notizia che sta circolando in questi minuti è vera cioè che si va avanti con alleghi allora io dico una cosa chi ne chi ne chi ne in serie b li dovevi mandare li dovevi mandare in serie b chi ne perché non hai fatto questo il tuo dovere li dovevi mandare in serie b e io vedo non me la prendo con allegro ormai ma allegro ormai non ha più colpe e no e no e no se io devo portare la macchina sempre da uno che me la distrugge poi la colpa non è più del meccanico la colpa è mia in serie b li dovevi mandare li dovevi mandare in serie b così almeno si si faceva piazza pulita el can el can tu sarai tu sarai la mia prossima vittima mi scaglierò contro di te come l'uracano dorian senza 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 come si vuol dire senza via di mezzo sarò una bevva ti morderò il collo come un pitbull fino a quando il tuo sangue non sarà più nel tuo inutile corpo perché questo che tu stai facendo questa riconferma che tu stai facendo significa in primis non amare la juventus e in secondis prendere per il culo i tifosi sin tanto si partono con le disdette non me ne fotte più un cazzo se mi devo vedere la pastita me la devo vedere senza soldi non mi interessa mi mi aggrappa qualche palo mi aggrappa qualche sito un fasullo e l'odrungolo non mi interessa ma non devo spendere più un soldo per vedere le vostre porcate no azione reazione azione mi dispiace che chi non ti ha mandato in serie più perché no perché io ripeto io amo la juventus ma tu me la stai facendo odiare me la stai facendo odiare mi dispiace mi dispiace se tu non vedo non hai interesse di questa di questa società la dovevi vendere la devi vendere e ripetere ancora alla guida questo schifezza di allenatore dopo di aver risolvato due allenatori che sono stati vincenti veramente è una presa per il culo con me non ce n'è nessun tipo di pietà tu sei male e io sono la cura tranquillo e non finisce qua te lo prometto non finisce qua non finisce qua sei detto se queste voci sono confermate si parte immediatamente con le disdette non esiste al mondo che io devo uscire un euro per vedere quello che tu il tuo mancanza da mancanza di rispetto perché noi amiamo la juventus e vogliamo che la juventus ami anche noi e tu non stai facendo questo processo no non lo stai facendo voglio riconfermare allegri allora prendere prende di tutte le conseguenze del caso lo so la maggior parte dei rifusi sono tutti lobotomizzate lo so sono tutti la con la pena con l'autografo comunque l'altra dipende però ripeto ci sono anche quelli che hanno un po ancora un po di cervello ripeto ti massacrerò ti massacrerò ti massacrerò ti massacrerò ma sti c'ingassati fino alla fine forse io grazie 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 grazie